E' il secondo giorno d'esami, parliamo dell'esame scritto, come sta andando? Sta procedendo tutto bene, i ragazzi si sono ritrovati in modo molto piacevole in classe, tant'è che hanno detto che questo è l'ultimo giorno che staremo fisicamente insieme, così come l'ultimo giorno di scuola. Sta procedendo bene, i colleghi hanno preparato ovviamente la prova, perché la seconda prova scritta è preparata dalla commissione, e essendo un istituto professionale, chiaramente riguarda le materie professionalizzanti. Sono a loro agio, i ragazzi, i presidenti, quindi sta procedendo tutto in modo regolare. Chiaramente dobbiamo dire che è sempre un'emozione per loro? Un'emozione molto grande, tanto più perché torniamo da un periodo di chiusura non indifferente, due anni di poca socializzazione, oggi inizialmente erano molto preoccupati, perché gli scritti, anzi si sperava all'inizio non si facessero questi scritti, perché lo spauracchio dello scritto è sempre una cosa difficile. Però oggi, anche ieri nella prova d'italiano, ma anche oggi li vediamo piacevolmente sorpresi del fatto di poter essere insieme a fare questo scritto, quindi sono contenti i ragazzi.